ci voleva come si dice abbiamo aspettato più di due anni però forse stiamo uscendo ecco allora per noi è molto meglio diciamo è come vita vita di nuovo diciamo è libera libera e tutto quello noi siamo felici che green bus però servirebbe pure quello perché c'è gente che non ha fatto neanche un vaccino e non è giusto con fronte a noi che ne abbiamo fatto tre per l'attacco Grazie a tutti.